Dopo Genova, Bersani perde le primarie anche a Palermo e ora si profila una resa dei conti tutta interna al gruppo dirigente siciliano che si è presentato spaccato. L'affluenza alle primarie del centro-sinistra a Palermo è stata notevole. Si sono recate a votare quasi 30.000 persone, 10.000 in più rispetto alle primarie di 5 anni fa. Dopo un test a testa durato fino a luna di notte, ne è uscito vincitore Fabrizio Ferrandelli, che ha sconfitto la più quotata e appoggiata da buona parte del PD, Rita Borsellino. Secondo i dati raccolti dal comitato del candidato, con circa 9.945 preferenze, Ferrandelli è arrivato primo con circa 160 voti di scarto su Rita Borsellino, giunta seconda. Terzo, Davide Faraone, segue Antonella Monastra. Ferrandelli è appoggiato da un cartello di una trentina di movimenti e dal pezzo del PD che fa riferimento al senatore Beppe Lumia, al capogruppo all'Assemblea regionale Antonello Cracolici e all'area innovazioni dell'ex ministro Salvatore Cardinale e del deputato Nino Papania. Rita Borsellino era sostenuta dal PD che fa riferimento al leader Pierluigi Bersani, Selle, Italia dei Valori, Federazione della Sinistra e Verdi. Finale comunque con polemica, lo staff della Borsellino sembra infatti intenzionato a chiedere il riconteggio delle schede. Ho sentito dire che qualcuno ha lamentato una condizione di grande irregolarità, la Borsellino non è persona che parla inutilmente, se così fosse io credo che sarebbe una pagina molto sgradevole e occorrerà affrontare seriamente la questione. Se i risultati dovessero essere confermati e invece tutto si è svolto legittimamente a luce del sole, le primarie hanno delle regole e chi vince è il candidato di tutti. Ferrandelli intanto festeggia e definisce la sua vittoria di tutti i palermitani. Ferrandelli risponde poi ai giornalisti che gli chiedevano un parere sul candidato del terzo polo, Massimo Costa e del PDL Francesco Cascio, anche se quest'ultima candidatura non è ancora ufficializzata. Ha detto sono loro i veri nemici di Palermo. Cascio e Costa sono due facce della stessa medaglia che ha portato alla distruzione di questo territorio, ha aggiunto, per cui a maggior ragione il centro-sinistra dovrà trovare le ragioni dell'unità per stare insieme.